In casa della Pistoese si lavora in profondità. Morza coordina il lavoro tecnico. Ogni giorno è a contatto di gomito con Maurizio Gherardini, che ulti ad allenare si interessa dell'organizzazione tecnica del settore giovanile. Proseguono i contatti con diverse società della Piana Pistoese, tra cui Lavannucci Piante, Pistoia Nord, Virtus e Bottegone, Tempio Chiazzano, Quarrata e Breda. Per completare le cinque formazioni per la prossima stagione è indispensabile la loro collaborazione. Morgia e Federico Bargagna sono impegnati soprattutto a costituire il nuovo organico della prima squadra per il prossimo campionato. Gli incontri sono frenetici. In base agli accordi con i giocatori della scorsa stagione si getteranno le mosse in generale per il calcio mercato. Dopo aver ottenuto l'ok da parte di Cecchi con la Chione Barutti, adesso si attendono le conferme dei vari Vigoni Buglio, Gambadori, Toledo e Floriano. L'attaccante Gucci si allontana sempre di più. Chi ha invece possibilità di trovare l'accordo è il difensore Lorenzo Giovannelli. Bargagna, in proposito, ha avuto contatti importanti con l'Atalanta per confermare il prestito anche per il prossimo campionato. Per la scelta dei due portieri quote decisivo sarà l'incontro di questo fine settimana con un presidente di una società di serie D dello stesso girone della società Arancione e gli addetti ai lavori di Fiorentina, Empoli e Livorno. Dalla formazione di onore si verranno aggregati alla prima squadra i vari Marzocchi, Romani, Perillo e Capitani, oltre a Vannucci, di rientro dal prestito di Quarrata. Vecchie 9 arancioni si riaduneranno il 24 di luglio per iniziare la preparazione programmata sull'impianto sportivo della Palagina della Polisportiva Via Nova-Pievanievole.